Continuano ad aumentare i ricoveri in area medica e terapia intensiva in Abruzzo, chiaro sintomo dell'ingresso nel piano della terza ondata Covid-19. Sebbene la situazione resti ancora sotto controllo, la pressione sulla rete ospedaliera continua ad aumentare. Nella settimana in cui è andato in crisi il Covid Hospital di Pescara, che ha dovuto dirottare diversi pazienti verso l'Aquila. Proprio l'area metropolitana resta osservata speciale, mentre c'è preoccupazione per i 500 nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore attraverso oltre 8.000 tamponi tra molecolari e antigenici. Le province di Pescara e Chieti sono le più colpite, quattro i decessi recenti con il totale di morti con Covid da inizio emergenza che sale a 1.502. Per ora restano tre le zone rosse, da oggi operative a tocco da Casaurea, Tese e San Giovanni Tiatino, ma sotto osservazione ci sono anche altre città. Il tasso di positività complessivo supera il 6% e tornano ad aumentare gli attualmente positivi nonostante proseguano le dichiarazioni di guarigione. Dopo la decisione da parte del Presidente della Regione di chiudere le scuole superiori, che da lunedì tornano in didattica a distanza al 100%, a Pescara il Sindaco ha deciso di sospendere le attività didattiche delle scuole in ordine per i prossimi 10 giorni, fino al 16 febbraio. C'è un aumento esponenziale dei contagi nella fascia di età che va dai 3 ai 12 anni. La percentuale è aumentata in pochissimi giorni dal 4% al 14%. C'è purtroppo la negatività di un processo naturale che parte dai ragazzi delle scuole e si estende ai genitori e ai nonni. La ASL ha consigliato, ha raccomandato provvedimenti drastici e urgenti per bloccare questa catena che si sta espandendo a seguito della variante inglese del contagio. Abbiamo stabilito controlli più stringenti in città, proprio per evitare assembramenti e per evitare che ci possano essere formule che possano aumentare il contagio. Non dobbiamo abbassare la guardia, io lo continuo a dire, zona gialla non vuol dire tana liberi tutti, vuol dire fare con prudenza le cose che si possono fare.